Se volete acquistare credit fifa a basso prezzo andate su fifacoin.com e con il codice GRANANAS avrete il 5% di sconto Bella vecchia, grazie, siamo tornati oggi con un nuovo video, con un nuovo ogni goal Finalmente ne troviamo uno nuovo E che è... Almeno è uscito da quello che sto tenendo in mano È ogni goal Ci mangiamo questo Mangime per coni Sono diventato dei cazzo di cavi del laboratorio Però la cosa positiva è che L'extravitamina fa bene ai denti Esatto Fa bene al pelo Fa bene al pelo Fa bene al pelo Al pelo del cazzo, capito? Cioè i peli del cazzo E poi è anti-odore Cioè quindi Non puzzamo Oltretutto c'è stata la zucca E... Sì, io vorrei farci la zucca È adatto anche per i porcellini d'India Non capita la buona cosa che è Qualità con più gusto addirittura Esatto, perché io prendo solo buona qualità Erba medica ricca di fibre Gollosa mela Prezioni di cereali Squisite verdure come la zucca aromatica Il menù rappresenta il punto di esperienza per una sana alimentazione di porcellini D'India Un mix specifico e bilanciato Che non solo piace agli animali Ma anche agli umani ovviamente Ma che fornisce loro tutto ciò di cui hanno bisogno per una vita sana Inoltre il menù Vitacraft Vital Complex Formulato e controllato dai nostri esperti Previene le carenze alimentari E dona extra vitalità Esatto Questo compratelo perché ci hanno pagato Vitacraft per i colisi Sì E mangiatevelo voi Noi lo mettiamo tipo Non si può mettere tipo qua Per modo che ho potuto vedere Comunque la cosa bella è che tipo Prima vado ad aprire Ovviamente c'era qualche formiga dentro C'era anche un randone Non è un problema Eh ok Adesso è importante Decidere il quadro Casuali 3, 2, 1 1 Millwall Monarchas Moradellia Non so che qua stendo Il Millwall mi è stato il cazzo No Da ma io sono contro il Millwall Il bello è che il Monarchas È la squadra più forte del Messico Eh ma io sono contro il Millwall Sti cazzi Cioè capito Perché tu la Lazio l'avresti presa Eh voi stai a trascinare Ho capito Ok Ora è importante È importante Perché io non voglio mangiare assolutamente Mangio per animali Ah forever blow in bubble Già sbagliano i cosi Eh 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 No Eh 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 Ecco Ecco Mamma mia Che è Chifo Vai Fai così No Che prende quello Ma sta di bene Aspetta un attimo Fammi via quello giusto Dall'asta Vediamo se devo scappegare Ok Quella è cacca di topo Non ha affatto un bel aspetto Allora questa qua Eh Non so cosa sia però È vero perché Senti Tutto un buco Ma come fai a mangiare Salomata Mamma mia No Ti conviene Masticare velocemente Perché io Ovviamente Già l'ho provata Stata sensazione Capito Per quanto so stronzo Va a blindfold for challenge Si fa cagare Però gioca Mi interessa Va a prendere Va bene Io invece alla faccia sua Mi mangio i biscotti Per cioccolato Capito Lui si mangia Mangia i biscotti Per cioccolato Che schifo Come fa per me un buco di pappone È una cosa strana Cioè È una cosa che Che non ho mai mangiato Il cartone Invece mi sembra di stessa mania Ah è schifo Mi sentirei Lo gusto Oddio Che schifo Vai Mealwall Vai Mealwall L'hai visto Sul secondo palo Oddio mio Oddio mio Oddio mio No vado a bloccare però Mi è piaciuto fare il bugger Davo al lavoro Cioè quelli sono proprio un merda Oh Oh Attacca Mealwall Attacca Non per cazzo eh Grande Seriamente Ma chi Grande 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 Zio Ho sbagliato Si è liberato all'ultimo costo Non sono fame Pezzo di merda Oh fallo L'ha visto sotto Rodriguez Rodriguez No 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 Porca Porca Panna Porca Sono a chiusura pessima Archer Samurano Infatti Ferguson È un po' difficile Rodriguez Ancora lui Teneva in mezzo Eh vabbè però dai eh Quero Per Sanzone Come Sanzone Sanzores Cioè A chi A chi Oh 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 Non a lui Non li mangio Non li mangio Ma pesantemente Oddio come giocano Che cosa hanno fai Che cosa hanno fai Uno due ragazzi Steguità che è fantastico Inimitabile E Grazie No no non lo fa qua Cioè pulisci da qua dentro Che mi prendo Che mi prendo Questo sinceramente Pare tipo scarapaggio morto Ed è anche morbido No Dai No Ma quella questa è tipo la mela essiccata Comunque Forse ti dice bene con quella Magari Non me lo Non si giudica mai Il libro della copertina Non me lo mangerò il tuo Guarda Sì sì però quello Vabbè dai non è così male poi Se ci pensi All'inizio non sembra niente Di che dopo è il tuo gusto Che te frega Ver Mamma mia che schifo Ma che ho vetta Ho vetta Ma che è Non lo so guarda Non lo voglio sapere Non lo voglio sapere Non lo so guarda Sì Non lo so guarda Non lo so guarda Ma che è Dai dai veloce Non è capito Non è capito Come so distrutto il ginocchio Non è nero No Eeeh Oddio un sito e prego ma non vuole il momento in cui non mandavate mangiare mamma mia o'brien 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 ancora o'brien no dai no si è un figlio di puttana figlio di puttana figlio di puttana guarda 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 questo classo guarda oh 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 si è un pezzo di merda no si è un pezzo di merda l'ho vista troppo sotto l'incluso porco cane porcaccio vabbè ocioane non fa un dribbling dal 97 porca troia manca la nato per un po' guarda questo ho fatto poco male ma vaffanculo affanculo hai fatto un tiro un porta che cazzo stai a di che non fatti 6 che cazzo oh porco di non voglio vincere non voglio vincere guardano che passaggio ridicoli ridicoli figli della merda a chi chi è che a te guarda che cosa ti fai sono le passaggio al culo e ti riescono io faccio i passaggi normali e passano in cura luna a chi testa di cazzo coglione quello di puttana e che cazzo e che cazzo che mori l'ho presa chiaramente fuori aria comunque l'ho presa chiaramente in culo chi da muore cioè ci voglio crede guarda perché non fa vedere quanti tiri ho fatto lo puoi vedere lo puoi vedere allora ragazzi è tutto sui rituri rodriguez il tiro rete ma è stato spastico dai che tu lo mani dai che tu lo mani dai che tu lo mani porca maria miller miller robert miller che merda che hai visto mamma mia poi la puoi controllare le camera che c'è ahahahahahah guarda dai è morale è merda guarda guarda che se non ritiri sul morale guarda 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 che li vede tutti fai schifo fai controlli il video controlli il video ah merda stia controlli il video controlli il video tanto c'è verso youtube tranquillo edwards edwards guarda ancora in gioco siamo vai che cazzo ahahah l'ho fregato eh non ci vuole tanto l'importante è che O'Brien segni questo c'è il come back c'è il come back Ochoa 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 del Verda ahahah a culo ma che è spastico ma come si butta eh dai che se sbagli questo è finita ma si butta la sua destra dai cazzo o o o o o o o finita non è finita disegnato o o o o o o o o o è la prima cosa Jordan per un attimo mangia mangia allora eccolo il comeback ma piatta la mela no? no no non credo che vada bene posso far metà lo fongo dietro quanto è morbido un po' su un bacino che c'è qua no dammela acqua ma è una vita mangia mangia finito ho finito che dolore che dolore ah regalati io va bene ok ragazzi questo il play sui Cidio è finito se vi è piaciuto lasciamo 10.000 like e ci avremo un secondo episodio con il mangio per animali no per comini animali anche io già te lo conosco a te ma che chiamo il mangio per serpenti? doppi che schifo con tutto il pelo guarda quello proprio ok andiamo avanti la prossima volta ah mamma mia se lo dico fammi ho capito evito di più che vuoi dire se saliamo a 20.000 like porco tu lo facevo coi vermi da pesca però no se saliamo a 20.000 like lo facciamo con il mangio per cani no no ma ricalcola quei vermi eccola qua coi croccantini dai c'è sta ma perché vuoi mangiare la cani dai ma sei scemo facciamo quei croccantini tutte cani e comunque niente facciamo quei croccantini e se saliamo se saliamo 20 like andiamo a mangiare i croccantini i croccantini i croccantini vabbè niente finiamola seguite su instagram ciao